Ciao a tutti, oggi prepareremo i bocconcini rossi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, olio evo, lievito di birra fresco, zucchero, farina di tipo 00, farina di tipo manitoba, sale, concentrato di pomodoro e origano. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. Ed azionare il bimbi per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina di tipo manitoba, la farina di tipo 00, l'olio, il concentrato di pomodoro e il sale. Ed impastare in modalità spiga per 5 minuti. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciar lievitare in forno spento con luce accesa per 2 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, adesso formeremo i bocconcini. Prendere un pezzetto di impasto da circa 70-80 grammi e formare le palline. posizionarli su una teglia rivestita con carta da forno. Lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno un'ora. Spennellare la superficie con olio. Spolverizzare con l'origano. cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti circa. I bocconcini sono pronti, lasciamo intiepidire prima di servire. Bocconcini rossi, grazie e alla prossima ricetta! A presto! Grazie a tutti.